Tre consiglieri che si tirano fuori dalla maggioranza, un assessore estromesso dalla giunta per aver condiviso un documento contro l'amministrazione. A San Piero Patti la bufera politica che si è abbattuta sul comune non sembra però scalfire il sindaco Ornella Trovato che si dice serena e decisa a proseguire lungo la strada tracciata. Il primo cittadino si era detto allibita dalla decisione del presidente Schepis e dei consiglieri Labelle e Bongiovanni che avevano lasciato il gruppo Noi per San Piero Unito parlando di fallimento dell'amministrazione trovato a causa della mancanza di un vero progetto politico. Non si è capito bene cosa abbiano fatto dal momento che hanno dichiarato che comunque saranno di sostegno all'attività amministrativa. Se così è potremmo continuare a lavorare insieme. Io continuerò ad andare avanti, ho un impegno con i miei concittadini che è quello di realizzare tutto quello che abbiamo allora preso come impegno con i cittadini che è il programma elettorale e quindi io andrò avanti serenamente per la mia strada. Poi ciò che fanno i consiglieri è più un problema loro che mio.